Ciao a tutti ragazzi, un saluto da me ma anche da Aftor, lui come sempre è curiosissimo, c'è arrivato questo pacco enorme da parte di Berkin, Berkin è praticamente un servizio personalizzato dove va a personalizzare comunque il cibo, quindi andando a combinare una serie di proteine ideali per mantenere la massa muscolare di Aftor, quindi andando così ad avere una dieta bilanciata e non solo, oltre a questo che prevede un programma di un mese, all'interno abbiamo trovato anche un dosatore, quindi dove possiamo, comunque potete vedere Aftor lo sta tenendo, praticamente con questo dosatore noi possiamo andare a prendere la porzione giornaliera e quindi poter dosare tutto, quindi adesso vi farò vedere all'interno che cosa c'è e inoltre questo servizio prevede anche un servizio di consulenza di un medico veterinario proprio per dare appunto aiuto durante questo programma di un mese e quindi poter sperimentare assieme come se la sta cavando Aftor, davvero originale, adesso vi farò vedere l'interno allora prendo questa scatola possiamo trovare subito questi snack allo zene che sono 100% naturali con carne fresca, camomilla e lavanda e una formula adatta proprio per aiutare a alleviare lo stress e l'ansia e soprattutto aiutare la digestione del nostro cane, quindi sono degli snack che proprio lui adora, poi qui abbiamo il famoso dosatore quindi per poter dosare giornalmente la porzione del vostro cane e qui in fondo vi faccio vedere che cosa c'è, ecco qua abbiamo il nostro programma di un mese, quindi 7 kg vanno bene per Aftor perché lui pesa intorno ai 10-12 kg, all'incirca va lì e abbiamo scelto, grazie appunto al medico veterinario abbiamo scelto questa formula di pollo e tacchino, ecco qua un programma di 7 kg per Aftor che va a prevedere una ricetta di pollo e tacchino, una dose di giornaliere, già dice pure i grammi Aftor si è contento? quindi pollo e tacchino, voi dovete sapere che le ricette Berking sono realizzate con ingredienti naturali provenienti da fattorie dell'Unione Europea e al 100% privi di sostanze cliniche quindi davvero ottime, andremo ad assaggiare, già vedo Aftor che con gli snack sta impazzendo vediamo questi snack, ho aperto gli snack, devo dire che sono favolosi, già come emana un odore davvero ottimo vi faccio vedere come gradisce lui ce la fai a prenderlo? ovviamente lui non si fa mancare nulla e apprezza perché dovete sapere che Aftor non apprezza proprio tutto tutto e quindi già quando apprezza qualcosa è top con questi snack al zen, quindi camomilla, lavanda che comunque va a far rilassare il cane, aiutare la digestione ma anche alleviare lo stress, andremo a fare la prova dell'assaggio quindi lui è sempre curiosissimo forza dai, te li metto qua ovviamente lui apprezza adesso andremo ad assaggiare anche i croccantini al pollo e al tacchino ovviamente il medico di Berking, quindi veterinario, sarà sempre lì a seguirvi siediti qua, siediti ma che bravo e adesso andremo ad aprire questo pacco gigante come potete vedere è praticissimo perché va a chiudersi e ad aprirsi facilmente anche qui un odore pazzesco e adesso andremo a vedere anche Aftor qui come si comporta qua questo dovrebbe essere 8.5 però siccome lui già ha mangiato noi stiamo andando soltanto a provare per vedere se comunque piace il tutto come potete vedere già lui impazzisce andremo a mettere qui vediamo come è Aftor, apprezzi? lui ovviamente prima fa così perché ci deve giocare dai mandatelo, forza forza che ti piace ovviamente lui apprezza non so se anche i vostri cani fanno così praticamente non mangiano dentro la ciotola ma devono metterlo in bocca e poi mangiarlo sul tappeto lui fa sempre così oppure prima ci gioca e poi lo mangia quindi nonostante lui abbia già pranzato sta mangiando nuovamente che vuol dire che gli piacciono quindi questo programma di un mese che verrà seguito anche da un medico veterinario vi consiglio di approfittarne questo mese vi consiglio di approfittarne questo mese Grazie a tutti.